8 febbraio 1865 Nel monastero agostiniano di Santo Maso a Berno, l'abate Gregor Mendel inizia le sue ricerche sulle piante di piselli. Lo scopo originario è quello di migliorare le produzioni agricole e le condizioni di vita dei contadini. Con la pubblicazione dei risultati nel 1866, Mendel formula le leggi della trasmissione dei caratteri ereditari che costituiscono il fondamento della genetica.